Ciao ragazzi, oggi sto visitando Pickering, nel nord Yorkshire. Ascoltatevi a guardare! Now, I will show you St. Peter and Paul Church. I will show you St. Peter and Paul Church. I will show you St. Peter and Paul Church. I will show you St. Peter and Paul Church. I will show you St. Peter and Paul Church. Il mercato è fantastico, guarda questo. Grazie a tutti. Grazie a tutti.